spiantatela di perdere tempo e state pronti ciao a tutti ho bisogno di cura capito bella mossa a quanto pare dovrà curarvi tutti come al solito l'attacco inizierà tra 30 secondi non sta a perdere tempo tra poco iniziamo non è strana 5 4 3 2 1 l'attacco è iniziale una strage venici localizzati 2 2 3 2 3 3 2 4 2 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti